Quando ero ragazzino il tricolore lo vedevi quasi solo allo stadio quando giocava la nazionale. Oggi se ci fate caso il tricolore è ovunque, sulle magliette, sulle mascherine, sui palazzi, la pubblicità dei biscotti, sulla tazzina, al bar, verde, bianco e rosso. Cioè non è assolutamente una cosa brutta, ma mi chiedo da dove viene tutta questa premura improvvisa di ricordarci che siamo italiani. Voi lo sapete, io lo so, almeno chi è italiano qui, credo un po' tutti. Mica lo devo sbandierà, non mi prega di allarti, sono italiano. A parte che se vede, come diceva il grande Ralph Lauren, se metto un paio di jeans miei, eppure essendo americano, a un americano, a un italiano, io l'italiano lo riconosco da un chilometro di distanza. Questa era molto bella. E comunque la gente sa benissimo cos'è l'Italia, perché gliel'hanno raccontata, perché l'hanno vista in cartolina, in televisione. Ce l'hanno così chiaro che tanta gente ci vorrebbe diventare italiana. Per tipare una squadra, che ne so, per girare le città in Vespa, come in quel famoso film, per lanciare una moneta in una fontana, una promessa al cielo. C'è chi vuole essere italiano perché il mare è vicino ai monti, che stanno vicini ai laghi, che stanno vicino al fiume, e tutto questo è vicino a una trattoria. Eh, sicuro. E poi... C'è chi vuole essere italiano perché magari le canzoni italiane sono orecchiabili, si memorizzano facilmente. E poi c'è chi lo vuole essere perché le correnti marine lo hanno sbattuto in Sicilia. E perché da Palermo arrivi a Milano, che come diceva Dalla è vicino all'Europa. C'è pure chi vuole essere italiano perché è la strada più breve per arrivare in Germania. E perché gli hanno detto che da noi l'ospicci rimedi sempre. oppure perché è la prima cosa che impari sono le parolacce. Eppure se mori almeno ti diverti. Tu cazzate e ti dici. E c'è chi vuole essere italiano perché l'Italia è vicino all'Africa, all'Asia, ai Balcani. E da qui quando c'è per tempo sapete tutto. E poi c'è chi vuole esserlo perché qualcuno ha avuto la genialità di dire che noi siamo brava gente. È vero o non è vero? Non lo so. Credo un po' sì rispetto a tanti altri. C'è chi vuole esserlo perché era italiano pure Giorgio Marincola. Non adesso. Negli anni 40. Nato in Somalia, madre africana e padre italiano. Giorgio, eccolo, fu un partigiano della resistenza italiana. Tante volte delle cose è meglio saperle. Il partigiano nero lo chiamavano e venne ucciso dai nazisti e poco prima disse che la padre è libertà per tutti e non un colore su una mappa. E c'è chi vuole essere italiano perché qualcuno al suo paese ha sentito la storia di Giorgio. Somalo di Roma. E ha pensato che se lui ha dato la vita per questo paese forse ne valeva la pena. E che questo paese merita di essere vissuto. Tutto qua.